L'estate è la stagione ideale per stare all'aperto, assaporare un po' di letteratura, magari sognare e a questo proposito da diversi anni in Alta Valle Seriana viene offerta l'occasione appunto per gustare la letteratura. In che modo? Infatti torna a partire da questa sera in Alta Valle Seriana la rassegna di letture teatrali organizzate dalle biblioteche comunali che per il decimo anno consecutivo ospiterà nelle piazze dei nostri paesi, attori, musicisti, sempre alle prese contesti di genere diversi per un pubblico comunque che ogni estate apprezza sempre di più questo tipo di proposta. La rassegna fa parte per il secondo anno consecutivo del più ampio festival a levare l'ombra da terra diretto da Alberto Salvi e vede tra i partner coinvolti il nostro sistema bibliotecario della Valle Seriana, però naturalmente il nostro partner organizzativo dalle biblioteche sono sempre le nostre amministrazioni comunali. Il nostro obiettivo è sempre quello di portare i libri al di fuori delle biblioteche dove si trovano abitualmente, dando ad essi un'opportunità in più per farli incontrare con i loro potenziali fruitori e soprattutto per trovarne di nuovi. In questi anni abbiamo proposto e naturalmente continueremo a farlo diversi generi letterari che spaziano da testi più impegnati a romanzi di evasione o classici della letteratura, racconti comici, sempre cercando di curarne comunque la qualità delle proposte con numerosi attori e musicisti che sono sempre pronti ad alternarsi sui palcoscenici allestiti per l'occasione nelle nostre piazze. Voglio dire una cosa importante, il Festival Levare l'Ombra da Terra si propone di valorizzare spazi e luoghi di interesse culturale o sociale che riteniamo importante rivalutare o potenziare come patrimonio della comunità. Allora, questa sera si parte da Gandellino alle ore 21 nello spazio antistante l'ingresso della scuola dell'infanzia che si trova sul retro della biblioteca. Naturalmente in caso di maltempo si terrà nella sala consigliare del municipio. Andrà in scena La bellezza dell'asino con attrici Alessandra Ingoglia e Maria Teresa Galati del Mattè Teatro. Il Festival poi proseguirà giovedì 6 agosto a Parre in piazza San Rocco con lo spettacolo Una solitudine troppo rumorosa con Matilde Faccheris. Le date successive sono venerdì 7 agosto a Gorno in piazza Villassio, Dio la benedica dottor Volnegut, sempre di Mattè Teatro. Sabato 8 agosto, oltre Senda Alta, in piazza della chiesa di Nasolino avremo 900. Martedì 11 agosto a Valbondione, nel nuovo parco giochi, avremo il mare color dell'inchiostro. E naturalmente si concluderà mercoledì 12 agosto a Dardesio, nella piazzetta San Giorgio, nei pressi della chiesa parrocchiale, il recital Acqua, con Alberto Salvi, Matilde Faccheris, alla chitarra avremo Claudio Fabini, al contrabbasso Stefano Armati. Naturalmente nelle biblioteche sono disponibili tutti gli opuscoli per la presentazione di questa rassegna. Faccio presente che gli spettacoli sono tutte le ore 21, l'ingresso è gratuito e in caso di pioggia si terranno nei luoghi adiacenti al coperto.